Dalle parole alle persone, è l'iniziativa che organizziamo sabato prossimo alle ore 17.30 alla Sala Verdi presso il Teatro della Fortuna. Sarà un'occasione per raccontare questi dieci anni di amministrazione, dieci anni da sindaco di Massimo Seri e di due giunte. Dieci anni veramente intense dove sono state fatte veramente tantissime cose, tanti nuovi servizi, dove abbiamo affrontato tante situazioni, tanti eventi, dove abbiamo affrontato anche tante emergenze. Veramente sono stati dieci anni in cui è capitato di tutto, ma penso che siano dieci anni che abbiano lasciato il segno. Dieci anni in cui la città si è trasformata in una città che è un cantiere, una città che si è diventata più bella, una città sempre più internazionale. Veramente tante cose da raccontare. Io penso sia giusto che al termine di un percorso così importante si renda conto alla cittadinanza. Per questo vi invito a partecipare, ad essere presenti sabato prossimo alle ore 17.30 presso la Sala Verdi del Teatro della Fortuna.